Sono iniziati i lavori per la realizzazione del primo stralcio della passerella in legno e acciaio zencato sopraelevata di 80 centimetri in Darsena, che si inserisce nell'ambito del progetto Ravenna in Darsena, il mare in piazza, all'interno del bando periferie. L'opera si estenderà per una lunghezza di 280 metri e una larghezza di 5 metri e mezzo lungo via d'Allaggio, consentendo una nuova passeggiata lungo il Candiano. ERA a breve lancerà la procedura di gara per la sistemazione fognaria, che verrà giudicata ai primi di dicembre. Il comune di Ravenna sta investendo in un importante progetto di rigenerazione urbana in quest'area periferica della città per ripristinare un collegamento con l'acqua in un'ottica culturale, ricreativa ed educativa, ma allo stesso tempo è in attesa dello sblocco dei fondi statali. Sono previsti spazi di sosta, sedute che si alternano a gradoni, rampe e scalinate. Sarà ornata da fioriere e alberature e dotata di pubblica illuminazione e portabiciclette. La passerella, quando sarà realizzata per intero, sarà lunga 1140 metri e comprenderà una scalinata all'inizio e una alla fine. Quattro scalinate distribuite lungo il percorso, due rampe al 5%, una rampa per un ipotizzato futuro prontone di accesso all'acqua, anche per disabili. Otto luoghi per la sosta con panchine, tre gradonate lungo via d'alaggio, di cui un'alberata, una gradonata di 25 metri, destinata al verde, 22 alberi, oltre 1.400 piantine di arbusti, erbe perenni, rampicanti, 28 pali per la pubblica illuminazione e 16 luci ad incasso, 10 leggii dedicate alla passeggiata letteraria, 4 gruppi di portabiciclette, 6 cestini portarifiuti. Per quanto riguarda la passeggiata letteraria, ci sarà una sequenza di elementi informativi leggeri lungo tutto il percorso, in grado di riportare pilloli di contenuto narrativo, poesie, storie e personaggi. Non mancheranno riflessioni su Ravenna recuperate da diversi autori, lo storico Strabone e i letterati Dante, Boccaccio, Byron, Wilde, James, D'Annunzio, Montale, Pasolini, Valentini e Fo.